Disastro Gagliardini, veramente incommentabile, dopo ne parliamo perché voglio fare una bella analisi con questo video qua, che sarà ricchissimo di contenuti importanti, perché mi sono scritto un sacco di cose, voglio rimanere lucido, non voglio, cioè, veramente che diventi uno sfogatoio o un dramma questa partita, vi prego, vi prego, lo dico subito in inizio video e poi infatti dirò un sacco di cose che faranno, che daranno un po' il quadro, un po' più completo della partita, ma la cosa principale, e voglio, per questo che condividiate il video, a più non posso, ve lo chiedete, veramente oggi è importante, condividete questo video, la cosa principale che voglio dire è questo, non facciamo diventare un dramma questa partita, questa sconfitta, purtroppo, che è venuta male, perché un Gagliardini così, cioè, adesso ne parliamo, però il risultato ci può stare, ragazzi, c'è 11 titolarissimi del Napoli riposati in casa contro 10 riserve stanche in trasferta dell'Inter dentro tutte quante le competizioni che abbiamo giocato anche l'altro giorno, giocheremo anche mercoledì, poi sabato, l'Inter sta giocando contro gli altri avversari e anche contro la Lega, per il calendario che sta, che inspiegabilmente sta adoperando, cosa che è successo anche l'anno scorso, febbraio-marzo, tutti quanti i big match, l'un dietro l'altro, con la Champions e la Coppa Italia in mezzo, ricordiamocelo, quindi test attaccato al collo, compatti e lucidi, è un momento delicatissimo della stagione, appello generale, condividete questo video e adesso andiamo all'analisi. Allora, prima cosa che devo dire, prima di arrivare proprio al sodo, la tattica e via, che ho goduto tantissimo quando l'Inter ha segnato quel gol lì con Di Marco per Lukaku, perché quello è un gol che Inzaghi ha praticamente propiziato e chiesto con i cambi, ecco, era l'unico modo in cui potevamo fare una mezz'azione, e sono contento che Inzaghi gliel'abbia messa a Spalletti, perché giusto due minuti prima il signor Spalletti è in carognito, devo dire, oltremodo, con l'arbitro per il fallo su D'Ambrosio, con Zelensky che lo falcia, praticamente gli va addosso, falle un po' di sfondamento perché perde l'equilibrio, di fatto mette fuori causa D'Ambrosio, è fallo, punto. Poi lasciamo stare Marelli, per me ormai lasciamo stare, comunque è fallo, ci può stare, poi tra l'altro stai dominando la partita, l'arbitro ti fischia, a parte, a parte l'indulgenza un po' su Gagliardini che poteva forse essere espulso anche qualche minuto prima, ma a parte quello non ha fischiato nulla a favore dell'Inter, zero, anche i mezzi falli, tutto a favore il Napoli, cioè stai dominando, hai già vinto il campionato, tutto quanto e sei così teso, in carognito, in malafede, non so, rancoroso, anche forse perché c'è l'Inter contro, non so, ragazzi, a me è sembrato un comportamento da parte di Spalletti da rosicone, vile e, devo dire, insicuro, il classico mister insicuro che deve vincere contro quella che sarebbe dovuta essere una con peggio da quello dello Scudetto per testimoniare più che agli altri a se stesso, che forse non ha le sicurezze abbastanza, a se stesso che è più forte, stai giocando contro l'Inter in dieci, con tutte le riserve, Spalletti, dai, insulti in zaghi, insulti in labio, sta buono, veramente ho goduto per quel gol lì, detto questo andiamo alla partita, allora, ricorderete il pre-partita di ieri, Gagliardini, no, Gagliardini, no, abbiamo bisogno di giocare con i due play, è fondamentale contro questo Napoli se vogliamo avere una possibilità di giocarcelo un po', questo è stato l'unico errore di in zaghi della partita, l'unico, ma decisivo, importantissimo, perché per il resto è stato perfetto, anche la lettura, poi durante la partita 4-4-1, poi ha messo Di Mark giustamente, sfruttando Lukaku, tutte le letture giuste Lukaku, Sulo Botka, tutte le cose che ho detto ieri per partita, l'unica minchiata, perdonatemi, l'unica minchiata è stata quella di mettere Gagliardini in campo, una cosa, un errore, perché il resto è stato perfetto in zaghi, un errore decisivo, decisivo ragazzi, Gagliardini non andava, cioè a parte che per me andava venduto, ogni sessione di mercato negli ultimi tre stagioni l'aveva venduto, perché è un giocatore che non è a livello, secondo me, dell'Inter, però non spreco tempo a parlare di Gagliardini in sé, perché non ha senso, lasciamo stare, voglio considerarmi su quello che è più nelle nostre potenziali, quello che secondo me, su quello che non mi aspetto, cioè l'errore magari di Inzaghi, avendo io grande stima di Inzaghi, allora il turnover va fatto, soprattutto se giochiamo contro anche la Lega, va fatto, però deve essere logico e sensato, deve avere una sua logicità, ok? Così con Gagliardini, Aslani, avendo Gosens, abbiamo abdicato totalmente alle nostre idee, alle nostre caratteristiche, non potevamo fare gioco, e con un Napoli che è una squadra molto forte, gioca in casa, ed è una squadra che domina già il possesso di suo, quindi tu ne hai già meno del solito, e in più pressa fortissimo, e quindi tu potenzialmente ne hai ancora meno di quello che avresti avuto meno del rispetto al solito, e così è stata la prima partita, cioè il primo tempo, poi dieci vabbè, però questo è stato il motivo della partita, e della difficoltà dell'Inter di fare gioco, di creare un po', di essere un po' dentro la partita, ok? Abbiamo praticamente rinunciato alla costruzione mettendo Aslani mediano, che come ho detto ieri, Aslani per me è un buon giocatore a tecnica, però non è ancora maturo e tutto quanto, come Brozvic, Ciala, eccetera, eccetera, quindi se lo metti mediano, che è marcato a uomo, ed è un giocatore che non è come Brozvic, che si smarca così facilmente, già è sotto pressione Aslani, se in più non ha neanche il doppio play, la pressione va tutta su di lui, l'Inter non riesce a giocare, se poi la palla va a Gagliardini, non si gioca, poi c'è Gosens, non c'è Di Marco, come al solito, cioè ragazzi, com'è possibile creare qualcosa? Com'è possibile gestire un po' la palla e non darla tutta al Napoli? È impossibile, ti sei privato della possibilità di giocare, cioè puoi giocare con le riserve, giocare un po' meno bene, ma almeno la tua idea deve poterci stare comunque in campo, magari meno forte del solito, meno efficace del solito, ma ci deve comunque essere il tuo sistema, così non abbiamo potuto giocare come sappiamo giocare, capito? Questo è un grande problema numero uno della partita, e Gagliardini è stato un problema pazzesco in questo senso qua. Tra l'altro, essendo questa la partita con zero gestione, zero palla, zero attacco, zero manovra, zero possibilità di provarci a farla, è stata una partita totalmente difensiva dal primo minuto, e allora anche altri giocatori, per esempio Bellanova, vanno in difficoltà perché? Perché questa è una partita prettamente difensiva, più da Dunfriss, una partita da zero pallone, da zero manovra, da zero capacità corale, costruzione, offensività, zero, Bellanova, le sue caratteristiche sono soprattutto offensive, vedasi minuto 62, che cavalcata che ha fatto in contropiede pazzesco, abbiamo sfiorato il gol anche con Goses, ma una ne ha avuto, una palla ha avuto in tutta la partita così, Bellanova, quello è il suo forte, tu praticamente con questa cosa, con Gagliardini, senza Brozo e vicevia, hai dovuto far fare a Bellanova una partita che avrebbe dovuto fare Dunfriss, cioè, quindi l'hai anche messo in difficoltà, perché gli hai fatto fare praticamente il terzino difensivo, che la sua capacità è totalmente offensiva invece, quindi l'hai pure messo, ha fatto fatica per esempio a Bellanova, vabbè, senza contare poi anche Goses, che non abbiamo mai sfruttato un inserimento e tutto, perché giocando sempre dietro, vabbè, di certo Bellanova non spicca se deve giocare dentro la sua area, ma semmai verso l'area opposta, poi, oltre a questo ragazzi, appunto dicevo a Slani, un po' in difficoltà da Mediano, ma giustamente, ma non per colpa sua, ma perché, per quello che ho spiegato prima, a livello di soffre la pressione, non è Brozovic, non ha la maturità, non ha ancora la capacità tattica, l'esperienza tattica di gestire i momenti, ecco, ma c'è la Brozovic, o anche c'è la Noglu, quindi chiaramente va in sofferenza, sotto pressione, e ha sbagliato più di qualche giocata oggi, non a livello tecnico, ma giocata a livello di pensiero, di scelta, di gestione della palla, ma già al sesto minuto, per esempio, c'è la possibilità di verticalizzare, c'è una palla recuperata sulla tre quarti del Napoli, cioè sulla tre quarti nostra, in realtà, offensiva, e a Slani, può verticalizzare direttamente, invece no, la dà dietro orizzontale a Bellanova, su cui sta rivenendo, sta rinvenendo Cavalascheglie, che è un giocatore molto veloce, poi la palla la perde a Bellanova, ma non è col bei Bellanova, è a Slani che ha sbagliato la giocata, cioè poi, quindi uno dice, eh vabbè, tecnicamente bravo, però bisogna fare anche la scelta giusta, e questa è una cosa che si è vista, non tanto per colpa di a Slani, ma per la condizione in cui doveva stare a Slani, per le caratteristiche che ancora non ha, poverino, cioè giustamente, infatti ieri ho detto, formazione perfetta, l'unico cambio era a Slani, mezzala, e Brozovic, mediano, a gestire la pressione, che avrebbe sicuramente avuto, con un doppio play, che sarebbe stato a Slani, su cui non sarebbe gravata la pressione primaria, ma sarebbe gravata su Brozovic, avremmo visto un'altra partita, ve lo garantisco, sono sicuro, al 165%, avessimo fatto quel minimo cambio lì, non c'era Gagliardini, ma c'era a Slani, mezzala, Brozovic, mediano, in questa partita, oggi avremmo visto un primo tempo diverso, e di conseguenza, una partita diversa, ok, perché l'Inter, pur con delle riserve, ma l'Inter ha un piano di gioco, gioca anche bene, se il turnover, la squadra messa in campo, ha un suo senso, pur con le riserve, siamo magari meno forti del solito, ma te la puoi giocare, perché la squadra avrebbe avuto un senso, questo non è stato, questo mi dispiace, ma è l'unico errore di Inzaghi, perché adesso è stato perfetto, ma è l'unico errore, ma è stato decisivo, decisivo, poi se ci mettiamo che Gagliardini, che è un giocatore che dovrebbe avere, 28 anni, dovrebbe essere maturo, dovrebbe sapersi gestire, tutto quanto, ci lascia in 10, dopo 20 minuti, ragazzi, lì apriamo, aprito una porta aperta, neanche da dire, voglio dire, palese, che al netto delle loro di Inzaghi, Gagliardini, non voglio commentarlo, perché non voglio usare termini, però insomma, diciamo che, è abbastanza incommentabile, diciamo che è incommentabile, e avrebbe dovuto, almeno, visto che è un giocatore ormai esperto, tenersi fino al 45esimo, cercare di limitarsi un po', di gestirsi un pochino, e poi il 45esimo avremmo trovato sicuramente una contromisura, bastava tenere 0-0 al 45esimo, con l'uomo, con parità numerica, a quel punto lì si cambiava Gagliardini, si metteva Brozovic in campo, Mediano, Gaslani, Mezzala, l'Inter avrebbe fatto un'altra partita, invece no, grazie Gaglia di questo regalo, di questo regalo, che altro posso dire? Allora, vediamo se, ah, un'altra cosa importante, voglio però, in tutta questa partita un po' svilento, poi così, voglio spezzare due lance, per due giocatori che mi sono piaciuti tanto, e che ho apprezzato come impegno, primo, Onana, leader assoluto di questa squadra, a livello proprio di carisma, poi, non ha salvato il gol, però ragazzi, come atteggiamento, comportamento, ha una leadership pazzesca, ha un carisma pazzesco, che nessun altro ha nell'Inter, a parte qualcuno di esperienza, Cerbi, Jacob, da vecchia, hanno una personalità per esperienze, e via, ma degli altri giocatori ritenuti top dell'Inter, c'è Onana, è un gigante a confronto, c'è, ha un carisma, una personalità, una fredezza, è pazzesca ragazzi, allucinante, allucinante, abbiamo avuto una fortuna pazzesca, avendo perso Skriniar, che era un altro giocatore che aveva, che trascinava e tutto, in quel modo in cui l'abbiamo perso, almeno abbiamo preso un altro, che è Onana, che si sta rivelando, giocatore che ha una testa pazzesca, non facciamo cazzate in estate, chiuso il capitolo, seconda cosa, voglio dire, voglio dire bravo a De Vrij, che mi è piaciuto molto, ha fatto una partita di grande sacrificio, molto difficile, ma ha fatto, ha fatto delle letture in copertura, molto importanti, quindi, nella difficoltà, se poi alla fine era stanchissimo, ci mancherebbe altro, però voglio dirgli bravo, perché ha fatto una gran partita difensiva, sono le partite sue queste, con l'Inter un po' più bassa di Bari Centro, lui che deve fare la copertura, e lì il De Vrij è sicuramente un giocatore importante, bene ragazzi, ho detto tutto, ci vediamo poi in live su Twitch, verso le 21 e 30, per parlarne ancora, ricondivido l'appello, state tranquilli, spero che l'analisi vi sia piaciuta, vi sia stata utile, ragazzi questa volta ha ciccato Inzaghi, senza parlare ai Gagliardini, ok, ovvio quello è ovvio, oggi ha ciccato Inzaghi, ma ci sta, cioè nel senso gli errori li fanno tutti, li fanno tutti, li fanno tutti, cioè è normale, devo dire che poi Inzaghi ha fatto pochi errori quest'anno, tutto sommato, se mettiamo tutto quanto insieme, e le varie attenuanti, quindi oggi ha cannato secondo me lui su Gagliardini, e non è il primo, perché su Gagliardini c'è spalletti, Conte, io non capisco perché abbia questa, non so, ci si fidi così tanto di Gagliardini, comunque pazienza, ragazzi, a presto, condividete il video, mi raccomando, se volete entrare nel gruppo abbonati di Telegram, vi ricordo, fate l'abbonamento, ovviamente leggete gli abbonamenti, e cosa comportano, ognuno è diverso, per entrare nel gruppo Telegram, c'è squadra il messaggero, o anche quelli più in su, da quello in su, e vi accogliamo nella community, vi accolgo con grande, con un grande abbraccio nella community, dei messaggeri, ragazzi vi saluto, a prestissimo, forza Inter, comunque testa adesso la prossima, che bisognerà fare una settimana pazzesca.